Perché è stato possibile affidare la gestione temporanea della Casa Museo Scagliona ad una delle tre società che hanno presentato manifestazioni di interesse e non è possibile fare la stessa cosa con la Chiesa della Raccomandata, per la quale oltretutto di proposta ne è stata presentata solo una? E' quanto si domanda più o meno tra le righe il Comitato di Quartiere della Perriera, che dopo il Via Libera dato dal Comune alla Cooperativa Gorà, che già durante i giorni di Carnevale garantirà l'apertura dello storico edificio di Piazza Duomo, ha scritto al sindaco di Paola per chiedere di fare la stessa cosa con la Raccomandata. Un edificio che è riuscito a rivivere negli anni scorsi dopo i lavori di restauro completati nel 2009 grazie ad alcune iniziative portate avanti dall'Associazione Italia Nostra. E' questo infatti il sodalizio che si è offerto di gestire il bene, magari dopo che sarà effettuato il necessario laccio fognario atteso ormai da anni. Comitato di Quartiere della Perriera, che lo ricordiamo, è intitolato alla memoria di Antonio Ritacco, storico fondatore di quel sodalizio che lottò insieme all'Associazione Italia Nostra affinché la Chiesa della Raccomandata, negli anni trasformatasi in un rudere depredato da più parti, venisse restituita al suo antico splendore. Cosa poi avvenuta attraverso lo sfruttamento di un finanziamento dell'assessorato regionale ai beni culturali. Il problema è che da tempo gli operatori culturali di Sciacca pongono la questione della necessità di un bando per l'affidamento dei beni comuni affinché questi vengano adeguatamente valorizzati. La decisione di concedere alla gestione provvisoria della Casa Museo Scaglione in attesa del bando è sicuramente un primo passo verso un approdo che evidentemente però appare più complicato di quanto non si pensi. L'Associazione Italia Nostra indubbiamente ha fatto della Chiesa della Raccomandata una vera e propria bandiera della propria battaglia per restituire dignità e decoro ad un patrimonio culturale immenso, quello di Sciacca, di valore inestimabile, un patrimonio culturale che purtroppo i saccensi non apprezzano per come dovrebbero. L'idea del bando, prevista peraltro nello stesso regolamento per la valorizzazione dei beni comuni approvato recentemente dal Consiglio Comunale di Sciacca, è l'unica prospettiva possibile dunque per dare le risposte che le associazioni, che non hanno esitato in quest'ottica a costituire perfino una consulta della cultura, si aspettano. Il timore è che la Chiesa della Raccomandata, capolavoro di stile normanno che trae origine addirittura nel XIII secolo, possa subire un nuovo abbandono, vanificando così tutti gli sforzi fin qui fatti per raggiungere i risultati che sono stati raggiunti.